Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora in un nuovissimo video di Brazo Crew E oggi solamente per un annuncio piccolo piccolo, un video cortissimo Domani, sabato 11 aprile, domenica 12 aprile, sarò presente a Romics Quindi, se mi vedete in giro, fermatemi Ci facciamo una bella foto, ci facciamo due chiacchiere Mi offrite un caffè? Non ve lo offro io, siete troppi Quindi, se avete qualsiasi cosa da portarmi, se avete una fanart, un disegno Oppure che per un altro non lo dà a me, non so da scherzare A parte gli scherzi Ci vediamo domani, tenetevi aggiornati con Facebook oppure Instagram Mi raccomando, a domani Bella